Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti Ho preso le scarpe di Slavidas e guardate che fredatura, non c'è niente, voi dite che burlone, dice le bugie Vi sembra pieno? Ammi no Non li vedo le scarpe E questo è il grattino Come potete vedere pure qua, guardate, grattino C'è un altro grattino Poi c'è un altro grattino I suggeretti che abbiamo pagato e poi le scarpe Ecco, anche di frigo Perché se io faccio così Cosa vedete? Una sagoma nelle scarpe Faccio vedere cosa faccio Se non mi piacere, se non bianche Eccolo Grazie a tutti. Comunque stavo un attimo guardando le scarpe e mi ho dato anche, che ve lo faccio vedere, un flacone per pulire le scarpe che praticamente tu tipo qui, aspettate ma vi faccio vedere, tipo io qui ho una macchia, prendo quel tampone e si tocchia, e c'è il colore di bianco. Io vorrei vedere questo piccolo addosso perché sono delle scarpe bellissime, e vi lascio anche la descrizione da chi lo comprate, quindi ciao.